Sempre in sezione C, giornalismo e critica. Consegna, un premio, Dante, per la vita. Laureata di rispudenza, giornalista, Marina Rota, predige la rivista informativa della Città della Salute e dell'Agenza di Torino e scrive articoli in ambito artistico e letterario per vari periodici, diverse le sue pubblicazioni e numerosi i premi e i riconoscimenti ricevuti. L'articolo Il Maestro del Brantile, con il quale partecipa al concorso, e io ho messo conto di un'amicizia sincera e intellettuale con lo scrittore Pier Luigi Berrotto sullo sconto di una comune intesa cozzaniana nella Torino elegante che sa di altri tempi. A poco a poco l'amicizia si fa più intensa e si ripeste di stima reciproca che l'autrice percorre con sguardo attento e raffinato il vizio, ne evidenzia i diversi aspetti significati, ne rileva l'autenticità attraverso gli interni dell'anima, precisa e cadevole nell'analisi, esaustiva la miglia capacità dell'indagine, pur nella triste velatura dell'ultimo estremo congeso. Complimenti. Potrebbe anche essere l'occasione appunto quella del lavoro che è stato premiato per ricordare Pier Luigi al centro Panunce. Potrebbe essere un'occasione utile. Grazie, signor. Primo premio.